L'ultima domenica di gennaio la Diocesi di Milano è in festa. Si celebra infatti ovunque nella terra ambrosiana la famiglia, la festa della famiglia, con momenti di preghiera, iniziative, spettacoli e soprattutto tanti bei pranzi comunitari, negli oratori e non solo. Ebbene, noi vogliamo un po' contribuire a questo clima di festa per la famiglia presentando un'opera davvero singolare. Si tratta di una sacra famiglia riunita a tavola. Potete vedere, si nota proprio il bambin Gesù, piccolino, 4-5 anni, seduto su una sorta di seggiolone, in mezzo a Giuseppe, il padre putativo, e sua mamma Maria. Ci sono anche degli angeli che assistono e partecipano proprio a questo momento di condivisione, a questo pranzo. E già l'immagine è abbastanza particolare, perché noi abbiamo in mente magari la sacra famiglia a Betlemme, durante la fuga in Egitto, o all'interno della casa di Nazareth, con la bottega da falegname di Giuseppe, il momento stesso della morte, secondo la tradizione di Giuseppe, con Maria e Gesù che lo assistono. Ma vederli a tavola è un'immagine un po' inconsueta. E ci colpisce soprattutto a vedere che Giuseppe sta porgendo, sta offrendo un calice colmo di vino al bambin Gesù, piccolino, che se lo porta alle labbra proprio e lo assaggia sotto lo sguardo intenerito, un po' divertito anche della mamma, di Maria. Un'immagine di grande tenerezza, di grande intimità domestica, che ovviamente, come possiamo ben immaginare, nasconde una serie di significati simbolici. Innanzitutto è un'immagine non comune, ma non rarissima. Questa che presentiamo dove si trova? Nella sala da pranzo di un posto davvero particolare, l'Arcivescovado, il Palazzo Arcivescovile. Quindi si trova nella sala da pranzo dell'Arcivescovo di Milano. Fa parte questo dipinto della quadreria Arcivescovile, quella quadreria nata proprio per la meditazione personale, la contemplazione degli arcivescovi e si trova lì in questo palazzo, però dall'epoca napoleonica. Infatti agli inizi dell'Ottocento è stato requisito in un convento di frati Cappuccini della provincia di Modena e da allora poi è stato depositato dalla Pinacoteca di Brera, depositato nel Palazzo Arcivescovile. La provenienza emiliana ci dice anche la scuola. La scuola è bolognese, è un'opera che stilisticamente si fa risalire alla bottega di Guido Reni, uno dei più grandi pittori in assoluto del Seicento. Questo non è forse un dipinto del maestro, di Guido Reni stesso, ma di uno dei suoi allievi. Infatti nella sua bottega c'erano tutti questi lavoranti, questi pittori italiani e anche stranieri. E questo dipinto effettivamente a guardarlo bene sembra avere qualche influenza francese, quindi chissà, un pittore francese che era lì a lavorare insieme al Guido Reni. Un'opera deliziosa da guardare e riguardare. E parlavamo dei significati simbolici che sono evidenti. Quel calice offerto al bambin Gesù, quel calice divino, già rimanda a quel calice che Gesù dovrà bere, il sacrificio, l'inizio della passione, il momento nell'orto degli ulivi, la preghiera, nel Gezzemani. Ma rimanda quella tavola, quel vino, quel pane che è sulla mensa, ovviamente anche all'ultima cena, al mistero eucaristico. Tutto questo in un'atmosfera intima, familiare, domestica, felice, gioiosa, come sarà la festa della famiglia in diocesi.